ciao amici sapete che la bellezza si può proteggere ed esaltare con la giusta alimentazione devo mettermi a dieta anche per la pelle adesso mangiare bene fa bene ci guadagniamo non solo in salute ma anche in bellezza frutta e verdura con le loro vitamine e liquidi nutrono la pelle e la rendono luminosa scegliendo cosa mangiare possiamo ottenere anche unghie sane e capelli forti vediamo insieme 8 cibi anti età per fermare il tempo se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 tuorlo d'uovo con il passare del tempo le unghie diventano più fragili e tendono a spezzarsi potete rafforzarle naturalmente con le vitamine b6 a e d del tuorlo d'uovo si può aggiungere un tuorlo d'uovo alle insalate o fare un omelette con verdure le uova sono state rivalutate e non sono nemiche del colesterolo come si diceva e poi sono ricche di vitamine b1 e b12 di fosforo ferro e zinco e non sono caloriche 2 avocado l'avocado è uno dei cibi anti age più efficaci contiene acidi grassi insaturi e vitamina e che rende la pelle più elastica e luminosa ma non abbuffatevi di avocado è piuttosto calorico e bisogna tenerlo presente vi consiglio di mangiarlo nelle insalate o come piatto di proteine magre ho parlato dell'avocado anche in questo video 3 noci le noci elasticizzano la pelle e la proteggono dalla luce solare e dall'inquinamento sono ricche anche di vitamina e antiossidanti omega 3 e omega 6 come per l'avocado meglio non esagerare con le noci sono molto caloriche è meglio non mangiarle alla sera perché sono un po impegnative da digerire 4 tarassaco il tarassaco è diuretico e disintossicante ideale per fare detox e drenare i liquidi con pochissime calorie aiuta a prevenire gli inestetismi della pelle come la cellulite e a contrastare il gonfiore diffuso dato dalla ritenzione idrica di gambe e glutei 5 mirtilli i mirtilli sono un vero tocca sana perché ha problemi circolatori questi piccoli frutti tonificano i vasi sanguigni e migliorano la circolazione inoltre sono anti age perché favoriscono l'ossigenazione e la rigenerazione dei tessuti 6 pomodori i pomodori sono l'alleato più affidabile contro le rughe e le macchie della pelle contengono il licopene un antiossidante protettivo contro i danni del tempo e del sole i pomodori mantengono i loro effetti benefici sia crudi che cotti nella salsa infatti la quantità di licopene rimane inalterata anche dopo la cottura 7 porri i porri sono l'ideale per la dieta e per ottenere la pancia piatta hanno proprietà lassative e diuretiche che riducono il gonfiore addominale contengono fibre in quantità utili per favorire il transito intestinale sono ricchi di vitamina a c e b e di silice che dà elasticità a ossa e pelle e sono pochissimo calorici in 100 grammi di porri sono contenute solo 30 calorie vuoi sapere tutti i segreti su come ottenere una pancia piatta ho scritto una guida con la dieta specifica anti gonfiore trovi il link in descrizione 8 tè verde il tè verde antiossidante e vitaminico fortifica i capelli e ne previene la caduta ti consiglio di berne due tazze al giorno per rendere subito visibili gli effetti è anche antiossidante ed ha energia senza caffeina avete visto amici com'è facile proteggere la bellezza con l'alimentazione se vuoi approfondire questo argomento e sapere come farti seguire da me per avere i massimi risultati senza commettere i classici errori del fai da te clicca sul link in descrizione e scopri il mio programma dedicato ed eccolo il regalino di oggi lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto dalla piccola i qui in alto per vedere tanti altri video su alimentazione naturale per la salute e la bellezza è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e andate sulla playlist dedicata per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio